Nuova tappa per il Baccalà Fest, il tour enogastronomico a base di Baccalà che venerdì 7 febbraio è approdato a Pozzuoli presso Villa La Falanghina. L'evento è stato organizzato in collaborazione con Toti Lange, presidente dell'Accademia Partenopea del Baccalà e Nino De Filippo. Stasera siamo qui a Villa La Falanghina, un nome storico, prestigioso della ristorazione dell'area flegrea e quindi dell'area metropolitana di Napoli, luogo di eccellenza e di grande charme, per una cena a quattro mani con lo chef resident della Falanghina e con il nuovo e valente chef baccalaiuolo De Filippo per degustare un menù a quattro mani perché grazie alla collaborazione con te e con tanti amici stiamo facendo varie tappe in cui diamo indicazioni innanzitutto su quella che è la qualità della materia prima che va cucinata e che non va vilipesa ma va cucinata nella maniera adeguata. Quindi siamo qui, i baccalaiuli sono sempre in attività ed è uno dei prossimi, uno dei tanti appuntamenti, altri ne seguiranno, speriamo ancora in collaborazione con voi. Ma che diciamo anche del fatto che è caratterizzato da un particolare taglio alla napoletana il baccalà? Sì, sia il baccalà che lo stoccafisso, in particolar modo proprio lo stoccafisso perché in effetti le altre regioni fanno una lavorazione molto più facile rispetto alla nostra in quanto noi dividiamo lo stoccafisso in quattro parti, prima lo dividiamo in due e poi ancora in due. In effetti ogni pesce diventa quattro parti e le parti sono il termine napoletano è ucurniel e a panzette, come abbiamo scritto nel disciplinare, in effetti sono il filetto dello stoccafisso e la pancia dello stoccafisso. La cena a quattro mani è stata preparata da resident chef di Villa La Falanghina Edoardo Estatico e da resident chef di ristorante Bianco Specialità Baccalà Pesce E Alfonso De Filippo. Per l'occasione i due chef hanno pensato a un menù variegato, il cui filo conduttore è stato naturalmente il baccalà, ingrediente caro alla cucina popolare e negli ultimi tempi riscoperto da chef rinomati. Durante l'evento gastronomico è stato presentato il libro Baccalaioli da parte di uno degli autori, Tommaso Esposito. Il baccalà è il piatto principe della cucina di Quaresima, quello che verrà dopo il tempo di carnevale, che intanto goderemo con salsicce, polpette e lasagne, ma poi verrà il tempo di macro, in cui il baccalà diventa il piatto principale nelle sue tante elaborazioni, dall'esso al fritto. La tavola dei Quaresima è una tavola ricca, una tavola golosa e il baccalà è uno dei componenti essenziali.